I cristiani laici devono trovare il coraggio di diventare apostoli del quartiere facendo il primo passo verso gli altri in città dove spesso regnano indifferenze e anonimato. È l'invito che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio dei Laici che hanno discusso sul tema incontrare Dio nel cuore della città. Le città riconosce il Papa, presentano grandi opportunità e grandi rischi, possono essere magnifici spazi di libertà e di realizzazione umana ma anche terribili spazi di disumanizzazione e di infelicità. Sembra che ogni città, anche quella che appare più florida e ordinata, abbia la capacità di generare dentro di sé una oscura anticità. Sembra che insieme ai cittadini esistano anche i non cittadini, persone invisibili, povere di mezzi e di calore umano che abitano non luoghi, che vivono nelle non relazioni. Si tratta di individui a cui nessuno rivolge uno sguardo, un'attenzione, un interesse. Non solo sono gli anonimi, sono gli anti-uomini. E questo è terribile. Ma di fronte a questi tristi scenari, dobbiamo sempre ricordarci che Dio non ha abbandonato alla città. Lui abita nella città. Quindi, ha concluso Papa Francesco, bisogna avere uno sguardo di fede sulla città, uno sguardo contemplativo che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. Dio non è mai assente dal cuore dell'uomo e nella città c'è spesso un terreno di apostolato molto più fertile di quello che tanti immaginano.